Forzuti e pronti a nuova avventura, gli under 17 campani più bravi nella complicata e durissima disciplina della pesistica si sono ritrovati al centro sportivo Vitalica di Sarno, dando vita a una giornata in cui concentrazione e forza sono andate di pari passo. Ottimo il risultato ottenuto da giovani atleti che sperano adesso di partecipare agli assoluti, con il sogno un giorno di arrivare in alto, magari alla massima competizione, cioè le Olimpia. È una gara di selezione che ci porta direttamente ai campionati di sollevamento, sia categoria femminile che categoria massima. L'impianto sportivo Vitalica ci crede in questa iniziativa, sta preparando degli atleti che sicuramente hanno fatto sì che anche gli sporti minori siano presenti sul territorio. Nell'ospitare gli altri vogliamo augurare alle persone dell'Agro Nocerino Sarnese di credere in questa disciplina, di praticare questo sport. E chissà, lo dico sempre, che da qui possa nascere anche un olimpionico, non solo calcio, e non è giusto che sia sempre solo calcio. Abbiamo il nuoto, abbiamo il sollevamento pesi, abbiamo altre discipline, abbiamo persone che hanno dato lustro all'Agro Nocerino Sarnese in queste discipline minori. Quindi crediamoci tutti, investiamo in questi sport minori, facciamo sì che i nostri impianti possano diventare punto di riferimento per uno sport sano che sia anche crescita sociale. La pesistica sta facendo grossi passi, la federazione della forza si vede in giro, noi cerchiamo di andare sul territorio, ringraziamo Nello Caeto, residente e l'Ugimirante di questa bella struttura, la Vitalica FSA. Loro principalmente fanno nuoto, ci hanno aperto le porte, si sono affiliati, abbiamo voluto dare fiducia, gli abbiamo portato questi Under 17, i nostri giovanissimi, i più forti che sono recentemente, hanno ben figurato in campo nazionale a Cagliari, secondi e terzi porti per i nostri ragazzi. Stiamo portando la pesistica in giro sul territorio, esiste la pesistica, esiste il Comitato regionale Campania con i suoi giovani, ci vogliamo proporre, ci vogliamo far conoscere, è capace che qualcuno si appassioni e il nostro intento del Comitato è quello di puntare molto sui giovanissimi.